Ha il primato di essere il più antico d'Italia, ma anche uno dei più antichi del mondo. Il Carnevale di Fano esisteva già nel 1347, data rinvenuta in un documento che descriveva i festeggiamenti in città. Ancora oggi è uno dei più famosi, rinomati e consolidati nella tradizione locale, nazionale e internazionale. Nulla di meno quindi del Carnevale di Basilea in Svizzera, che figura nel patrimonio immateriale dell'umanità da 2017. Per questo il consigliere regionale Boris Rapa ha presentato una mozione affinché la regione si faccia promotrice dell'inserimento dell'evento fanese nella lista UNESCO. La proposta è stata condivisa con le associazioni interessate e con il Comune di Fano, che con il sindaco Seri e l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e tutta la maggioranza, assumerà l'iniziativa anche a livello comunale. Si apre un'opportunità molto importante che è quella di candidare il Carnevale come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il Carnevale che è una tradizione molto importante del nostro popolo, che è insito in quel saper fare creativo e popolare della nostra città, che fa parte della nostra storia, di tutti i personaggi che in un qualche modo hanno vissuto questi importanti momenti che ci hanno trasmesso questi importanti insegnamenti. Oggi l'Italia ha soltanto 12 posizioni aperte come patrimonio immateriale dell'UNESCO e questo dà la possibilità di aprirne ancora altre per equilibrare questi patrimoni che in tutto il mondo si diffondono, mentre sono già abbastanza sature le posizioni come patrimonio immateriale. Rientrare nella lista UNESCO del patrimonio immateriale garantirebbe una maggiore visibilità, rafforzando la possibilità di ottenere un successo in tempi brevi. Ma l'intenzione è quella di far sì che Fanno diventi capofila di un progetto seriale che preveda la partecipazione anche di altri Carnevali d'Italia, per far sì che ci possiamo presentare presso il Comitato Intragovernativo dell'UNESCO con una forza sicuramente maggiore e possiamo presentare quella che è la vera forza del Carnevale come tradizione del popolo e così presentare un progetto, un protocollo che porta il Carnevale ad essere riconosciuto come patrimonio immateriale dell'UNESCO.